eccoci nuovamente a intorno alla nostra casa in Genshin Impact so di essere pesante molto pesante ma reputo l'argomento di estrema importanza nonostante costruire la casa sia una delle cose più noiosi che si potesse trovare in un gioco online. Detto questo entriamo nella nostra abitazione come prima abitudine mi raccomando non dimenticatela mai raccogliamo i nostri soldi perché il nostro scopo è di arrivare a livello 6 e 8 per raccogliere i premi che vedete chiamiamoli premi anche se alla fine premi non sono perché non si tratta altro che delle ricompense che ci verranno consegnate una volta che spenderemo i nostri silver giornalieri che riusciremo a fare quindi attraverso le forniture attraverso le ricette riusciremo a costruire una casa migliore una casa che ci permetterà di salire di livello. Ora vi faccio vedere un'anteprima della mia e vi mostro come posizionare la roba in un modo ordinato quindi attraverso progetti preimpostati che sono già chiaramente preimpostati lo dice la parola stessa nel gioco quindi acquistiamo un po di cose che ci servono dallo shop ogni giorno mi raccomando cercate di mettere a craftare delle cose che vi servono per non ritrovarvi diciamo così spiazzati dalla mancanza di materiali a vostra disposizione in questo caso a noi serve questa specie di candelabro cinese o di attacca lampione cinese o di lampione cinese col palo in bambù lo craftiamo e siamo pronti vedete ho già messo una staccionata ora andiamo nella borsa attiviamo la pergamena cosa importante perché se non attiviamo la pergamena non la troviamo tra le cose da craftare una volta attivata la pergamena andiamo a craftarla quindi ora prima crafto la seconda staccionata questo perché perché tra il taglia e incolla ho già visto cosa mi serviva poi vado successivamente attivare la pergamena attivo la pergamena vado di nuovo dal simpatico pinguino vado a craftare il candelabro la lampada col bambù la crafto e a questo punto sono pronto per spiegarvi come posizionare le cose in modo già diciamo preimpostato dal gioco però per farlo devo prima vedete domani ci serviranno questi cespugli per farlo devo prima togliere tutto quello che ho posizionato quindi manderò il video a una velocità ultrasonica per non annoiarvi soprattutto e cancellare tutto quello che non serve ovviamente sarà la prima e unica volta che vi mostrerò come mettere giù le cose in un modo ordinato sfruttando le ricette diciamo le complessive che ci vengono offerte già dal gioco successivamente vi mostrerò nelle prossime guide esclusivamente come fare quest come salire di livello in modo più efficace oppure come prendere oggetti di stretta importanza ora vedete continua la trafila io vi zoomerò da un'altra parte dove continuerò a vedete a usare pozze e craftare farò la solita cosa anche all'interno della casa mi sembra essere un geometra siamo nella planimetria della casa e andiamo a rimuovere questo bell'armadio lo togliamo anche qua a una velocità un po' sostenuta una volta che abbiamo tolto vedete queste storniamo all'esterno queste sono le ricette già pronte dove per esempio vi mette insieme in questo caso una bella pianta con dei sassi e elementi del sottobosco tutto di una pesantezza disarmante ma ricordate che a noi serve la resina a noi servono i libri per expare a noi servono gli cristalli per tirare sulle armi quindi per averne di più per averne sempre di più e diventare portare i nostri quattro stelle perché siamo free giocatori free to play o i nostri cinque stelle che abbiamo tirato fuori con sacrificio a livelli più alti ci servono tutti questi materiali quindi craftiamo la prossima composizione le due casette eccole qua le craftiamo le posizioniamo io sono fissato quindi le posiziono con cura non abbiatene a male guardo l'angolo guardo la rotazione purtroppo fa parte del mio carattere a questo punto non lo modificherò più credo comunque sistemo anche questa casa vedete è importante come vi dicevo usare le ricette pre compilate perché ci danno punti molti più punti che a craftare l'oggetto singolo una volta che abbiamo posizionato tutti i pre compiti e abbiamo preparato il territorio per quelli del giorno dopo perché ricordatevi il crafting rimane diverse ore in attesa ma se noi mettiamo a craftare tre oggetti prima di andare a letto quando torneremo da scuola o dal lavoro li avremo pronti nel mio caso dal lavoro ovviamente li avremo pronti quindi eviteremo di usare delle pozioni dentro facciamo la solita cosa riposizioniamo il nostro mobile armadio e chiaramente con cura vicino al muro di modo che non sia fuori allineamento perché la mia mente è malata quando abbiamo posizionato tutto siamo pronti per valutare i punti che ci mancano per raggiungere il livello successivo non il livello della magione ma il livello che ci permette di accumulare punti più in fretta quindi silver più in fretta allora posizioniamo anche questo stramaledetto armadio e poi siamo pronti per diciamo così iniziare a buttare giù roba a caso la posizionano a caso perché purtroppo c'è stato un errore nel video e ci dà una scritta invalida ma io vi facevo vedere in quel tratto che in sostanza ero a 5.600 punti mi servivano 6.000 per salire quindi inizio a buttare tutto quello che ho fino a che non vado a saturare il prato per terra e così poi vado a fare anche all'interno della nostra dimora una volta che ho diciamo saturato tutto quello che si poteva saturare crafterò ancora qualcosa per continuare a buttare roba a casaccio all'interno dell'abitazione in modo da arrivare a 6.000 punti e lo farò diciamo nel minor tempo possibile in base chiaramente alle capacità e alla frequenza di aggiornamento del programma quindi butto giù continuo a buttare giù queste canne di bambù fortunatamente ho finito poi vado dentro e continuo a buttare roba nelle altre stanze ricordatevi che cambiando stanza voi potrete avere la facoltà di buttare giù altra roba io ora butto giù questi simpatici tappeti che ho fatto così posso arrivare a 6.000 e lo posso fare diciamo anche con felicità perché da domani c'ho più argento da spendere vedete se è aperta la teiera eccola là si è illuminata quindi cosa faccio prendo la teiera prendo la quest attivo le blueprint perché da domani protocraftale sarò molto felice una volta attivate le blueprint in sostanza vado a controllare il livello che ho raggiunto e ho raggiunto il livello che mi interessava per questo motivo domani cercherò di arrivare più in fretta ovviamente a il livello 5 facendo anche quest con un amico negli altri mondi vi ringrazio per il video se vi è piaciuto sono iscrivete al canale mi raccomando lasciatemi dei suggerimenti mi farebbe piacere dei commenti grazie per la visione e ci vediamo alla prossima puntata ciao